Il terzo giorno di ritirio delle onnesse è stato caratterizzato dalla forte pioggia caduta nel pomeriggio. Per il gruppo di Milena Bertolini la preparazione prosegue senza intoppi con tutte le componenti della rosa al meglio della forma. La seduta mattutina è stata dedicata alla forza fisica mentre nel pomeriggio sul campo ai limiti del praticabile Rosucci e compagne hanno svolto la consueta seduta tattica seguita dalla partitella. Anche per martedì è prevista una doppia seduta. Intanto la LND ha sorteggiato i turni di Coppa Italia. Nel primo turno le leonesse affronteranno in andata e ritorno il Franciacorta dell'ex mister Miro Checi. L'andata si giocherà il primo settembre a Brescia mentre il ritorno si giocherà l'8 settembre ad Erbusco. Chiara Marchitelli nuovo arrivo del Brescia di quest'anno. Le tue prime impressioni qui a Temu? Le prime impressioni sono buone. Poi la maggior parte delle ragazze le conoscevo già per la nazionale per averci giocato insieme. Mi sembra un bel gruppo anche se è un gruppo giovane ma comunque è un gruppo d'esperienza ormai. Per cui credo ci siano buone prospettive. Milena Bertolini, la tua nuova allenatrice? Milena non l'ho mai avuta come allenatrice ma hanno sempre sentito parlare da chi l'ha avuta e le prime impressioni su di lei sono buone. Si vede che è una che cura molto l'aspetto tattico e questo secondo me è importante. Quest'anno per te è stata un'estate piena di impegni con la nazionale. Avete fatto una bellissima figura all'europeo. Quest'anno ricomincia subito con una sfida al Franciacorta. Sì, abbiamo saputo oggi dell'imminente sfida. Infatti magari se ce lo comunicavano prima era meglio. Non conosco la squadra però ovviamente una partita così subito dopo la preparazione va sempre presa con le molle. E poi probabilmente ci sarà un altro derby di fuoco in Mozzanica. Sì, ho chiesto oggi nello spogliatoio se il derby con Mozzanica era uno di quei derby sentiti ma hanno detto assolutamente sì. Ormai ho una certa esperienza tra Roma-Lazio, Chieselli-Stavagnacco dei derby non visti per cui andremo lì a vincere. Stefania, come giudichi questi primi giorni di ritiro? Mi sono trovata benissimo. In pochi giorni ho già imparato tantissime cose. Infatti sono davvero contenta perché penso di crescere molto in questa squadra. sto dando il massimo e spero di darlo sempre fino all'ultimo secondo. Le tue nuove compagne? Mi trovo benissimo perché mi hanno fatto sentire dal primo minuto a mio agio. e comunque anche in campo mi aiutano, mi danno una mano per inserirmi nel migliore dei modi. E quest'anno c'era già una voce in giro di Stefania Terenzi che punta alla nazionale, giusto? Beh, quello si spera sempre, è chiaro, però devo comunque farlo vedere in campo, devo convincere molta gente e devo solo far vedere le mie potenzialità. E una promessa ai tifosi, almeno un po' di gol per questa tua nuova maglia? Spero di farne il più possibile perché comunque quest'anno vogliamo vincere e arrivare molto in alto. Spero di soddisfare tutti i tifosi e comunque tutta la gente che ci segue perché abbiamo delle ottime giocatrici e possiamo andare molto avanti. Elisa Zizioli, da sei anni al Brescia, grande capitano, quest'anno si parte per vincere? Sì, quest'anno dobbiamo assolutamente raggiungere un traguardo importante, ci stiamo provando da qualche anno, speriamo sia quello giusto. Dopo tre giorni qui a Temù, tanta fatica, tanti sorrisi come al solito, Milena che dirige i vostri allenamenti, come vi sentite? Sì, ci sentiamo bene, anche le nuove si stanno integrando, alcune conoscevano comunque già Milena e quindi come lavora, per cui forse sono più facilitate. Il gruppo si sta impegnando e stiamo seguendo le direzioni del mister. Elisa, una parola per i tifosi che anche quest'anno, come al solito, vi seguono in massa qui a Temù, sempre presenti e sempre al fianco della squadra. Sì, li ringrazio tutti da parte della squadra perché comunque ci danno un grande sostegno e vogliamo vincere anche per loro. Grazie. Grazie.